Utenza sotto i livelli standard sotto la soia dei 500 parti anno prevista dal decreto Balduzzi il punto nascita di Termoli si è fermato nel 2018 a 380 ed il trend del 2019 è negativo le partorienti proiezioni alla mano non sarebbero state più di 300 la domanda è che fine faranno dove partoriranno a Campobasso possibile ma in verosimile vista la distanza più probabile Vasto o in alternativa San Giovanni Rotondo dunque fuori regione 300 mamme del Basso Molise partoriranno in Abruzzo o in Puglia generando un ulteriore aggravio della mobilità passiva aumentando di fatto i viaggi della speranza che da anni vedono protagonisti loro malgrado i molisani chi paga? Noi ovviamente l'effetto immediato della chiusura del punto nascita di Termoli sarà dunque quello di aumentare i costi della sanità molisana tanto pagano i cittadini nel 2017 il tanto vituperato commissario Frattura era riuscito a ridurre di poco le aliquote regionali IRPEF e IRAP ripianando nel contempo un debito di 600 milioni di euro in pochi mesi il quadro è cambiato di nuovo è stato Giustini ad annunciare l'aumento delle aliquote regionali ma non solo nel 2018 è stato generato un disavanzo di circa 20 milioni euro più euro meno 15 derivanti dall'extra budget dei privati convenzionati altri 5 che invece si riferiscono alla fiscalità regionale soldi destinati alla sanità ma utilizzati dal governatore Toma peraltro che fine hanno fatto questi denari? Domanda che il commissario Giustini ha girato alla corte dei conti che dovrà fare chiarezza. Nel frattempo i pronto soccorso di tutti gli ospedali sono allo stremo delle forze a Dagnone dall'8 luglio sarà garantito il servizio H12 dalle 8 alle 20 mentre di notte sarà operativo il 118 e reparti chiudono generando con la complicità del ministero della salute una guerra tra poveri perché Termoli e non Isernia i due punti nascita avevano gli stessi numeri sotto 500 a Isernia sono stati scaltri hanno analizzato il problema e trovato la soluzione molte Isernine partorivano a Santa Maria Capoavetere affidandosi alla sapienza del dottor Saltarelli soluzione Saltarelli è stato messo sotto contratto dall'ASREM e il numero dei parti al veneziale schizzato da 400 a 530. A Termoli invece la campagna acquisti non è mai entrata nel vivo non si è neanche provato a ingaggiare il professor Enzo Biondelli termolese che fa le fortune dell'ospedale di Vasto perché tante future mamme molisane e del basso molise decidono di affidarsi a lui ricapitolando chiudono i reparti e non si fa quasi nulla per invertire la rotta aumenta il debito aumenta la fiscalità regionale di chi sono le responsabilità